Fratellanza, perdono, umiltà, la via per la pace. Le celebrazioni antoniane sono al culmine, ma già da più di un mese la Basilica di Sant'Antonio a Padova è affollata di pellegrini che giungono da tutto il mondo con fiducia, affidandosi al santo portoghese giunto a Padova nel suo ruolo di ministro delle Fraternità Francescane del Nord Italia tra il 1227 e il 1230 e ritornato l'anno successivo nella città che ha amato. Sant'Antonio è morto alle porte di Padova nel 1931 e pochi istanti dopo la città fu travolta dalla notizia della morte di un padre santo che nei suoi sermoni e nelle sue predicazioni aveva sempre difeso i più deboli e aveva compiuto grandi azioni di pace. Le celebrazioni culmineranno il 13 giugno con la processione del santo per le vie della città. Quest'anno prendono spunto da una di queste coraggiose missioni, quando Sant'Antonio si recò dal tiranno Eselino da Romano per chiedere la grazia per alcuni prigionieri. Moltissimi gli eventi culturali, le visite notturne alla basilica con incursioni anche a San Giorgio delle Pertiche e Campo San Piero, oltre al tradizionale calendario spirituale nei giorni della tredicina e alla sacra rappresentazione del transito del santo il 12 giugno. Quest'anno ci stiamo appunto ispirando a Sant'Antonio come figura forte che ha saputo mettersi in gioco in prima persona e predicare appunto a favore della pace contro ogni forma di violenza e in difesa dei poveri. Ecco, lo stiamo davvero invocando come uomo che è riuscito a ristabilire riconciliazione, ponti, legami, lì dove c'era il rischio molto forte delle divisioni e dei contrasti. Anche all'interno delle famiglie vediamo i numeri di Padova particolarmente, sono allarmanti. Sì, infatti uno dei temi su cui ci siamo soffermati è proprio questo, la violenza contro le donne che è un tema molto delicato e che per essere sconfitto occorre che sia anche oggetto di riflessione seria, proprio per non lasciarci prendere da pregiudizi o da riflessioni troppo banali. Credo che ogni forma di violenza vada studiata anche nelle sue cause più profonde perché sia debellata. Sant'Antonio è un santo che è amato in tutto il mondo e quindi ha un particolare significato anche il ritorno delle reliquie nel mondo. E questo ci fa vedere come Sant'Antonio davvero unisca persone che appartengono ad ogni popolo della terra, per cui non solo il 13 giugno e nei giorni precedenti vediamo qui in Basilica persone di tutti i paesi, ma anche le reliquie del santo fanno visita a molti paesi della terra, nel senso che davvero oltre ad alcune regioni italiane le reliquie sue in questo momento sono in viaggio per il Canada e altre per gli Stati Uniti. Grazie.